L'Abruzzo da lunedì sarà ufficialmente in zona arancione, così come Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte e Sicilia. E' quanto deciso dal Ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei dati del monitoraggio settimanale. Non è bastato il calo di 22 unità in area medica e di 5 in terapia intensiva per confermare la zona gialla per almeno un'altra settimana. Sembra però stabilizzarsi la curva dei contagi. A confermarlo l'ultimo bollettino dove i casi positivi sono 3.748, con un tasso di positività pari al 12,23%. 12 decessi recenti, di cui 3 avvenuti nei giorni scorsi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.738. I nuovi guariti sono 221. Dei nuovi casi accertati, 724 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.120 in provincia di Chieti, 863 in provincia di Pescara, 918 in provincia di Teramo e 37 fuori regione, mentre per 79 casi sono in corso verifiche sulla provenienza. Le restrizioni in zona arancione sono differenti rispetto al passato e non riguardano chi possiede il Super Green Pass, bensì soltanto i soggetti non vaccinati. Per chi è sprovvisto del certificato verde rafforzato, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni sono consentiti solo per lavoro, necessità salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune. Restano consentiti invece gli spostamenti dei comuni con un massimo di 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso i capoluoghi di provincia. Ma il sistema che prevede il cambio di colore per le regioni potrebbe cambiare. L'obiettivo, dicono dalla conferenza delle regioni, è quello di proteggere gli ospedali e conviggere le persone a vaccinarsi contro il Covid. Il governo ha aperto alla revisione delle regole e si sta riflettendo sulla possibilità di non conteggiare i positivi al Covid asintomatici ricoverati in ospedale per altre motivazioni, così come dice il presidente della regione Marco Marsiglio. Se venisse accolta ad esempio questa misura che chiedono tutte le regioni da nord a sud, da destra a sinistra, noi oggi non avremmo superato i parametri per la zona arancione. Quindi dispiace che il governo ci metta mesi ad affrontare un tema quando purtroppo la velocità con cui si modifica anche il quadro della pandemia impone invece velocità nelle decisioni che siano più chiare e più tempestive.